Rivoli sogna la metropolitana e spera di realizzarla nel giro di una decina di anni. Il 31 gennaio i sindaci dei comuni ad ovest di Torino e la società Infrato hanno ufficializzato la prospettiva del completamento della linea 1 nel corso di una visita al cantiere dove sta invece procedendo la realizzazione del tratto che collega le quattro nuove stazioni della metro nel comune di Collegno, partendo dall'attuale capolinea Fermi, Certosa, Collegno, Centro, Leumann e Cascinevica. Il cantiere hanno spiegato i responsabili di Infrato alla presenza del presidente della regione Alberto Cirio, del vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo e degli amministratori locali dei comuni della cintura ovest di Torino sta procedendo secondo le tempistiche previste. Il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è un'opera strategica importantissima che segnerà davvero un futuro differente per tutti gli abitanti della città metropolitana, zona ovest e le valli Val di Susa e Val Sangona. Le persone avranno modo di raggiungere Torino con un mezzo ecologico in maniera più rapida, più veloce e sicuramente questo è un passo in avanti che dobbiamo sostenere. Questo investimento è inserito anche nel piano strategico metropolitano proprio a significare l'importanza per la vita dei cittadini. Questa è un'opera che cambia la quotidianità delle tante persone che vivono in un territorio non urbano e che hanno la necessità di raggiungere Torino per lavoro o per studio. Nel mese di febbraio inizieranno i lavori di armamento e la tratta dovrebbe essere aperta al pubblico nel 2025. La regione Piemonte, la città di Torino e tutti i comuni interessati stanno facendo fronte comune per ottenere dal governo i 250 milioni di euro che servirebbero per realizzare il prolungamento da Collegno a Rivoli con due fermate, una dei pressi del municipio, l'altra nel centro della città. Quello che è la nostra sfida che oggi abbiamo aggiuntato, come dire, con questo incontro qua, molto gradito, è il seme e l'impegno che ci prendiamo con la regione, la città metropolitana in Fratò per far arrivare la metropolitana in centro città. Noi abbiamo già avuto la fortuna, ma anche l'impegno, di portare a Collegno la metropolitana. Dopo Torino il lab di fermi con il suo deposito è sicuramente un nodo di interscambio importantissimo dell'area metropolitana, ma queste quattro fermate in più che ci condurranno fino a Rivoli rappresentano veramente un disegno metropolitano strategico per tutta Torino. a livello nazionale puntare sullo sviluppo delle città metropolitane e sulla loro sostenibilità va a vantaggio di tutto il Paese.